Mimmo hai minacciato il fi Mimmo no, non ha minacciato nessuno vieni qua, vieni qua, vieni qua vieni qua, vieni qua questo è il fratello di Mimmo non prendiamo questi discorsi ma, firma, firma, vieni qua vieni qua, vieni qua, vieni qua vieni qua, vieni qua vieni qua, vieni qua perdiamo due mesi di lavoro, Mimmo la classifica, voglio la classifica mi dicono che è arrivata la classifica la classifica ce l'ha Gianni ecco, ecco, ecco allora, prima di dire la classifica qui dobbiamo fare qualche domanda a Mimmo allora, in questi mesi Mimmo ha rilasciato alla televisione italiana e a internet varie interviste che sono andate su Facebook e su Youtube e l'intervistatore Gianni Notaro lo voglio qui, dove è Gianni? Gianni è regista abbiamo anche il nostro regista Ciro Ciro, facciamo un applauso Mimmo ecco qua Mimmo, puoi venire qui? ti puoi avvicinare? vieni qui Mimmo dobbiamo fare l'intervista prima della premiazione Mimmo Mimmo, le mani, le mani per Mimmo Allora, qui abbiamo il regista che tutto quest'estate ti ha fatti video e lì, qui il nostro giornalista un attimo un attimo un ringraziamento anzi ci sono una serie di ringraziamenti devi ridare devi ridare grazie 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 Zio